Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, nel video di oggi voglio parlarvi di alcune caramelle classiche tradizionali che sono popolari da sempre qui in Italia. Quando parlo di caramelle classiche intendo tutte quelle caramelle che, quando eravamo piccoli, andavamo a prendere di nascosto dalla borsa delle nostre nonne. Quando ero molto piccola andavo di nascosto a prendere le caramelle dalla borsa di mia nonna. Quali erano queste caramelle? Erano caramelle di vario tipo, c'erano le caramelle al miele, gli spicchi, quelle al gusto di arancia e limone, le fondenti alla frutta, le mu e poi mi ricordo anche le golia, però queste me le dava sempre mio nonno perché a lui piacevano tantissimo le golia, aveva sempre un pacchetto di golia in tasca. Vi ho appena fatto vedere tutte queste caramelle, ma oggi ci concentreremo solamente su tre di queste. Ho deciso di fare questo video in cui vi racconto la storia di alcune caramelle italiane, perché qualche giorno fa vi ho chiesto se conoscevate queste caramelle e su 2978 persone che hanno risposto, l'86% ha risposto no. E poi ho visto che c'era molta confusione nei commenti e quindi un motivo in più per fare questo video. Nel video di oggi voglio concentrarmi sulle rossana, sulle galatine e sulle pastiglie leone, che non ho qui con me adesso, ma vi metterò una foto sullo schermo per farvi capire quali sono. Io comincerei con la rossana perché questa caramella è iconica e la sua storia inizia nel 1926, quando l'imprenditrice Luisa Spagnoli crea queste caramelle. Allora, questo nome, Luisa Spagnoli, vi dice qualcosa? È stata una grande imprenditrice italiana che ha contribuito fortemente all'industrializzazione della regione Umbria e dell'Italia in generale. Nel 1907 fonda la Perugina, azienda dolciaria che dà vita anche ai notissimi Baci Perugina e nel periodo del primo dopoguerra dà vita all'altra sua grande azienda, nel campo tessile, che prende il suo nome, Luisa Spagnoli. Se volete saperne di più, vi consiglio di andare a guardare il film della RAI, proprio sulla vita di Luisa Spagnoli. Entrambe le aziende, la Perugina e Luisa Spagnoli, esistono ancora oggi, ma purtroppo la prima, la Perugina, è ora di proprietà della Nestlé. Ad un certo punto, qualche anno fa, la Nestlé voleva interrompere la produzione della Rossana, creando non poche polemiche, ovviamente, perché si sa come sono fatte queste multinazionali, no? Impongono le loro idee senza scrupoli, senza pensare alla storia che c'è dietro un prodotto e all'impatto culturale che questo prodotto ha. E quindi dobbiamo ringraziare, io personalmente mi sento di ringraziare l'azienda Fida, anch'essa un'azienda storica nella produzione di dolciumi in Italia, che ha acquisito il marchio e il prodotto. E salvandola di fatto. Da più di 90 anni questa caramella è uguale a se stessa, ha sempre lo stesso incarto, ha sempre la stessa forma, ha sempre lo stesso sapore, che è un sapore particolarissimo. Trovo anche difficile spiegare di che cosa sa questa caramella, è di base una caramella dura ripiena di crema di latte, che però ha anche dei sentori di nocciola e di mandorla. Per capire bene dovreste assaggiarla. Perché si chiama Rossana? Si chiama Rossana in onore della donna amata da Cyrano de Bergerac. E devo dire che tra tutte le caramelle che ho davanti a me, questa è la più classica tra le classiche. Il latte lo ritroviamo anche nelle galatine. Le galatine nascono nel 1956 da un'idea dell'azienda lombarda produttrice di latte Polenghi. Il prodotto è passato alla Sperlari, un'altra azienda storica nella produzione di dolci in Italia, dal 1991. In origine queste galatine erano delle tavolette quadrate che si vendevano anche nelle farmacie. Il grande cambiamento si ha nel 1996, quando le galatine assumono la forma che hanno oggi, cioè tonda. Oggi la galatina è tonda, non è più una tavoletta quadrata. Nel corso, diciamo, degli anni sono stati pensati altri gusti, come per esempio i frutti di bosco, il cioccolato. Però devo dire che queste al latte sono le originali e sono imbattibili, secondo il mio modesto parere. Le ultime caramelle che voglio portare alla vostra attenzione sono le pastiglie leone. Le pastiglie leone sono le più antiche perché nascono nel 1857 in una confetteria ad Alba, in cui Luigi Leone produce queste piccole pastiglie che in origine erano pensate per il fine pasto, per digerire. E infatti i primi gusti sono indicativi di ciò. I gusti originali erano i gusti digestivi. Cannella, fernet, rabarbaro, genziana, menta... Poi ovviamente nel corso del tempo l'idea della pastiglia si è ampliata a quella di caramella, più generalmente, e quindi sono stati aggiunti anche altri gusti. Queste pastiglie diventarono famosissime a Torino. Nel 1934 avviene un cambiamento significativo. La confetteria viene acquistata da Giselda Balla Monero, pioniera dell'imprenditoria femminile, che capì che questo laboratorio dolciario aveva delle potenzialità. Trasferì la produzione in un posto più ampio, investì molto in nuove confezioni, in pubblicità e creò anche dei concorsi a premi per i migliori clienti. E per questo suo atteggiamento molto forte, molto deciso, molto intraprendente, appunto, veniva soprannominata la Leonessa dai suoi collaboratori. E lei rimase a capo dell'azienda fino agli anni Ottanta, quando poi passò tutto in mano al figlio. Allora, fatemi sapere nei commenti se già conoscevate queste caramelle oppure no, sono molto curiosa di saperlo. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!